Il signor Filippo Champagni, caro Parenzo, in parte così davanti a uno schermo oppure dentro una sala corsa, non so esattamente dove a un certo punto vede un cavallo sfrecciare su cui magari ha puntato Quanto avevi puntato? Scusami Filippo, quanto avevi puntato? 400 euro 400 euro su quel cavallo, no? E a un certo punto eri talmente preso dall'adernalina di quel cavallo che stava per arrivare Che hai fatto? Quanto hai fatto ballare alla fresca? Quanto gli hai tolto? Quanto alla cassa sei andato per quanto? Eh certo, ha vinto, ha fatto vincente e piazzato Vincente e piazzato Chiaramente essendo un cavallo a quota alta l'ha giocato di meno vincente e più piazzato Capito Parenzo? Hai capito tutto il giro del fumo? Capito Parenzo? Oh, dove cazzo sta? Mi avete piazzato due coglioni così Dove sei? Fatti vedere, dove sei? Mi avete piazzato due coglioni così